Come sempre in questi casi l'esperienza serve anche dolorosamente a perfezionare gli interventi. È già pronta tutta l'organizzazione del COC, le chiedo sindaco che cosa avete aggiunto rispetto a quello che c'è stato e che è servito nelle ore della Grandine e anche cosa devono fare i cittadini per chiedere il ristrodo dei danni. Abbiamo attrezzato il COC che è funzionante, non ha mai smesso di funzionare, abbiamo già pure predisposto nella palestra di via Orfento un alloggio per tutte le persone che dovessero aver bisogno nell'ipotesi di calamità naturale. Nei giorni scorsi noi non avevamo un codice arancione, avevamo soltanto un codice giallo che vuol dire temporale ordinario. Invece è successa una catastrofe che non si ricorda a memoria d'uomo. Siamo stati pronti ad intervenire con tutte le forze possibili e con due unità di crisi, una al Comune con il COC e un'altra in Prefettura. Dopo quattro ore dall'evento la città si era normalizzata e adesso sono a lavoro quattro imprese con la somma urgenza per ripristinare tutte le situazioni di viabilità in maniera ordinaria. Per quanto riguarda invece i risarcimento, noi abbiamo già messo sul sito del Comune i moduli, la modulistica affinché i cittadini possano soffruirne e poi all'URP ovviamente abbiamo un settore dedicato a tutti i cittadini che dovessero chiedere informazioni. Già abbiamo distribuito all'URP 50 moduli in questi due giorni.